Nel cuore di Roma, nel tranquillo quartiere Appio Latino, si è svolto un dramma di solitudine e abbandono che ha lasciato sgomenti i condomini. Benvenuti su News Mix Up. Lasciate un'i piace al video ed iscrivetevi al canale. Grazie di cuore, Italo Gatti, un riservato maestro in pensione di 76 anni, era sparito nel nulla da luglio, lasciando dietro di sé un enigma di misteri e preoccupazioni. I vicini di casa, abituati alla sua presenza discreta ma costante, si erano allarmati quando le bollette non pagate si erano accumulate nella sua cassetta delle lettere e una finestra della sua abitazione era rimasta spalancata per mesi, giorno e notte. Nonostante i segnali di allarme, la scomparsa di Gatti era stata classificata come «allontanamento volontario». E nessuno aveva indagato oltre, solo dopo l'appello lanciato nel programma televisivo chi l'ha visto, i vigili del fuoco hanno deciso di intervenire. Dentro l'appartamento, una scena macabra attendeva di essere svelata, il corpo mummificato di Italo Gatti, testimone silente di un destino tragico e misterioso. Ora, attraverso l'esame autoptico, si cercherà di svelare gli enigmi che circondano la sua morte e il suo lungo periodo di solitudine e abbandono.